L'estate 2020 è particolare anche per la città di Bitonto. L'emergenza sanitaria del coronavirus ha cambiato il programma dei tradizionali eventi fissati per questi mesi. Tra le novità il Luce Music Festival. Il Comune ospita il Luce Music Festival allestendo a proprie spese l'area dei concerti. Tutti eventi importanti ovviamente a pagamento ma un prezzo popolare. Ci sono anche delle attività enogastronomiche di scoperta anche della lama. E' un pacchetto di grandi eventi che fa di Bitonto una delle piazze più importanti di questa estate strana. Una grande occasione per il territorio e per la sua ripartenza sul piano del marketing territoriale. Quattro gli appuntamenti del festival il 7, 8, 10 e 12 agosto. Saranno ospitati all'interno del Parco Naturale Lama Balice il Pandemonium di Vinicio Caposela, lo spettacolo concerto di Joe Evan, il live del nuovo album di Dente e la grinta pop di Francesca Michelin. Ma questa rassegna non sarà l'unico evento che terrà impegnati cittadini e turisti. Tre concerti ogni giovedì e domenica da domenica 19 luglio a domenica 4 ottobre nelle tre piazze del centro antico del Parco delle Arti cioè Piazza Cavoli, Cattedrale e Largo Teatro. Per quanto riguarda invece le attività di promozione della lettura abbiamo insieme alle librerie messo su un programma anche questo abbastanza corposo che inizia sempre nella terza settimana di luglio e finisce a fine settembre ed è il programma di Bitonto Città che legge che però abbiamo ribattezzato Polibris, piazze che leggono. Per la rete dei festival tradizionali della città invece è previsto uno slittamento tra settembre, la nuova stagione teatrale e il prossimo anno. Per quanto riguarda il progetto Città dei Festival tutti i festival sono saltati almeno nella versione estiva che conosciamo cioè la versione che riceve un cofinanziamento fino al 50% da parte del comune di Bitonto dopo un bando pubblico. Il bando pubblico non è stato fatto, di comune accordo abbiamo deciso di rimandare tutto al 2021 però anche in questo caso stiamo verificando la possibilità di comunque invitare i festival vincitori del bando 2019 quindi dell'ultima procedura pubblica realizzata a presentare un'edizione pocket di una sola serata a teatro.